Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi in via San Giovanni Bosco per mettere in sicurezza il cornicione pericolante del balcone di un appartamento situato all'ultimo piano di un palazzo di nove piani. La caduta di alcuni detriti ha allarmato i residenti dello stabile che hanno subito chiamato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti prontamente in via San Giovanni Bosco con l'autoscala. Per eseguire l'intervento nel migliore dei modi è stato necessario bloccare il transito delle auto nella via. A tal proposito si è reso necessario anche l'intervento della polizia municipale con i vigili che hanno bloccato l'accesso in via San Giovanni Bosco all'altezza dell'incrocio con via Redentore. Il traffico è stato infatti dirottato dai vigili urbani sul prolungamento della stessa via Redentore.